Urca bilurca a tutti e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite Ragazzuoli quest'oggi vi mostrerò la primissima sfida di questa settimana numero 3 delle sfide di Deadpool Infatti ragazzuoli andando su pass battaglia e successivamente nell'angolo segreto del nostro carissimo Deadpool Eccoci qua raga Ovviamente la schermata sarà diversa domani cioè venerdì una volta che quindi usciranno le sfide di Deadpool Infatti innanzitutto usciranno qui le sfide sotto settimana 3 Ma ragazzuoli la sfida di oggi è proprio come quella che vedete in questo momento qui di fianco a me Cerca l'ostura lavandini di Deadpool Ragazzuoli quest'ostura lavandini di Deadpool come potete vedere qui la schermata sarà diversa domani Mentre io sto pre-registrando questo video Infatti la porta si potrà aprire, si potrà interagire con la porta e aprirla E qui raga troverete come potete vedere qua il toilet punger cioè l'ostura lavandini Missione veramente semplicissima si troverà esattamente qui ragazzuoli Qui potremo cliccare X per interagire con la porta come abbiamo fatto con la lettera di Epic Come abbiamo fatto con il milk cartoon cioè il cartone del latte Come abbiamo fatto anche con i cimicianga E niente ragazzuoli ci vediamo tra pochissimo anche con la sfida numero 2 di questa settimana Numero 3 delle sfide di Deadpool Bella ragazzuoli Ho sentito dire in giro che tu ancora non mi stai supportando come creatore? Che cosa? Bene vai subito nel negozio oggetti di Fortnite Clicca sulla voce in basso a destra Supporta un creatore ed inserisci il codice Lucius maiuscolo o minuscolo che sia non cambia nulla Cliccate su accetta e mi raccomando taggatemi nelle vostre storie di Instagram Mentre shoppate con il mio codice che vi riposterò tutti dal primo all'ultimo E vi ricordo anche che a 500 supporter per ora siamo tipo 200 Arriverà un contest, un giveaway per tutti voi Con la possibilità di vincere una skin Iconic Wonder O le varie skin dei vari bundle rari Detto ciò, bella ragazzuoli